Ben ritrovati ai telespettatori di Extra, una nuova puntata. Questa settimana continueremo il viaggio alla scoperta di quelli che sono i protagonisti della scena elettorale di Verbania. Sette giorni fa abbiamo avuto ai nostri microfoni i protagonisti di quella che sarà la campagna per le primarie in casa PD, la scelta di chi sarà il candidato sindaco tra Riccardo Brezza e Chiara Fornara. Oggi invece partiamo con una carrellata di interviste sui protagonisti certi di questa campagna elettorale, su chi si è già accreditato come candidato a sindaco. In questa puntata ai microfoni di Maria Elisa Gualandris avremo Gian Domenico Albertella e Mirella Cristina. Gian Domenico Albertella, lo sapete, è appoggiato dalla lista Verbania Futura e poi dai partiti Lega e Fratelli d'Italia, mentre Mirella Cristina ha scelto una corsa in solitaria alle sue spalle per il momento Forza Italia. E allora seguiamo insieme queste due interviste e ci rivedremo al termine. Gian Domenico Albertella, candidato sindaco alla guida di una coalizione formata dal suo gruppo Verbania Futura, ma anche dalla Lega, da Fratelli d'Italia, una candidatura che parte da tanti anni di esperienza e di opposizione anche in Consiglio Comunale. Qual è lo spirito che l'anima? Innanzitutto perché ho scelto di fare questa intervista in questo luogo, in Piazza Fratelli Bandiera, che abbiamo alle nostre spalle. Perché la Piazza Fratelli Bandiera è un simbolo per noi del fallimento di questa amministrazione di centro-sinistra ed è il simbolo della vittoria dei verbanesi e di una battaglia che Verbania Futura e il centro-destra hanno condotto a partire dal 2019 con continuità per dire no a un progetto inutile, a uno spreco di denaro pubblico che non riqualifica la Sassonia e alla chiusura del pozzo di grattazione di acqua potabile. È una vittoria perché questa amministrazione ha dovuto revocare tutti gli atti assunti, nonostante cinque anni è che noi diciamo fermatevi, fermatevi perché occorre riqualificare la Sassonia nella sua interezza, ma non realizzare questo progetto. Ecco, questo per noi è il simbolo di quello che non si deve fare e da qui partiamo per cercare di dare a Verbania quello che merita di più. Ecco, lei si pone un po' alla guida della coalizione di centro-destra, anche se c'è stata una spaccatura con Forza Italia. Come mai? Ma sì, io innanzitutto Verbagna Futuro, la lista civica di tante persone che si sono avvicinate e con le quali stiamo lavorando da questi cinque anni. È un percorso che ci vede all'opposizione e dall'opposizione abbiamo dimostrato con l'esempio di Piazza Fratelli Bandiera, stoppando questo progetto che si può con fatica e con umiltà raggiungere gli obiettivi a favore della città che mi hanno chiesto di ricandidarmi, di mettere a disposizione della città che ne ha bisogno la mia esperienza. Io ho avuto la fortuna di essere uno dei sindaci più giovani nel 1985 a Cannobbio, poi ho rifatto il sindaco a Cannobbio per due legislature, l'esperienza in provincia di Novara e poi nella provincia del VCO, sto seguendo l'edilizia privata da ormai cinque anni e insieme agli amici di Fratelli d'Italia e della Lega che nelle settimane scorso hanno ufficializzato il sostegno, Fratelli d'Italia ha lanciato la mia candidatura, la Lega con cui abbiamo un rapporto comune in provincia e in questi anni abbiamo formato una coalizione di governo unita, coesa, che sta confrontandosi sul programma per la città. Stiamo lavorando e insieme chiederemo la fiducia dei cittadini per mandare a casa questa sinistra che ha mal governato la città e per dare a questa città ciò che merita di più. Lo ha detto cinque anni di lavoro già, quello che potrà essere anche il suo programma, voi vi siete mossi con largo anticipo, ci sono dei gruppi che l'ha istituito che stanno definendo i punti della campagna elettorale. Sì, noi stiamo lavorando sul programma, tutti i tre gruppi stanno lavorando, auspichiamo che questa coalizione possa vedere l'adesione anche di chi condivide i nostri valori. L'abbiamo detto anche nelle scorse settimane rivolgendoci a Forza Italia e noi moderati. Noi non facciamo parte di quel teatrino della politica autoreferenziale, non vogliamo ne entrare nelle polemiche autoreferenziali di Taluni, ma ci richiamiamo ai valori che il Presidente Berlusconi da sempre aveva messo in atto di unità del centrodestra, ma di unità di quelle forze che hanno questi valori liberali, moderati, comuni, ma gli esempi più lampanti di persone che lui era riuscito a coagulare, mi riferisco al sindaco di Genova, è un civico, il sindaco di Venezia è un civico nell'ambito della coalizione di centrodestra, fortemente evoluto anche dal Presidente Berlusconi. Ecco, ci rammarichiamo che i vertici locali di Forza Italia non smentiscono e sconfessano quelle che erano e sono le ragioni per la quale è nata Forza Italia, mirando all'unità di chi ha valori comuni. Sul programma stiamo lavorando perché è questo che ci interessa e le priorità sono con estrema concretezza, vogliamo affrontare le problematiche, dire le cose che si possono fare con concretezza e prendere un impegno con i cittadini verbanesi perché nei cinque anni siano realizzati. Partiamo da quello che noi riteniamo la priorità assoluta, parcheggi, viabilità, traffico. Queste sono tre cose che dobbiamo risolvere e che interessano tutta la città. Non parliamo di cose non accettabili ma la circonvalazione di Gronda, lungo San Giovanni, che stiamo studiando, sia la sponda destra che la sponda sinistra, va realizzata non per risolvere definitivamente il problema perché siamo consapevoli, ma per diminuire i disagi. I parcheggi, lo diciamo dal 2019, abbiamo chiesto un piano parcheggi, vanno realizzati. I 10 milioni invece di spenderli per Piazza Fratelli Bandiera spendiamoli per parcheggi, strade, viabilità e per evitare che la gente passi le proprie giornate di lavoro in macchina. Altra priorità che per noi è essenziale è la politica della casa. C'è un grande problema sulla casa, nessuno ha la bacchetta magica, a Vermagna ha circa 290 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ma c'è un problema delle locazioni brevi che hanno tolto dal mercato numerosi alloggi, c'è un problema dei costi che vanno affrontati. Il Comune deve porsi questo tema con concretezza, individuare l'area San Luigi acquistata dal Comune è una tra le aree sul quale noi stiamo studiando per un intervento di housing sociale. Ci sono altre aree di proprietà del Comune che devono avere la nostra attenzione e con concretezza lavoreremo per diminuire il problema e per fare in modo che i giovani, famiglie possano vivere a Vermagna e lavorare a Vermagna. C'è poi il problema delle facce più deboli, per il quale dobbiamo continuare a lavorare e i giovani. I giovani saranno probabilmente uno dei temi di questa campagna perché di giovani si è parlato forse poco negli ultimi anni. Certo, i giovani, dobbiamo fare in modo che i giovani possano decidere di rimanere a Vermagna a lavorare e anche a divertirsi. Per i giovani c'è una lamentela, i giovani si lamentano, dovunque vai ti dicono facciamo la discoteca. La discoteca è un'attività imprenditoriale che certamente il Comune non può sostituirsi all'imprenditore, ma possiamo creare spazi di aggregazione per i giovani. Mi riferisco al teatro che noi chiamiamo CEM, Centro Eventi Multifunzionale, perché il teatro deve essere una casa, la casa dei giovani e anche dei meno giovani, dei diversamente giovani. L'area esterna è un'area che si presta per realizzare momenti di aggregazione anche musicale, va attrezzata, va migliorata. Ecco, sul teatro abbiamo grandi progetti per fare in modo che non si limiti a una rassegna teatrale estiva-invernale, ma che diventi la casa delle associazioni verbanese, la casa dei giovani, la casa dei meno giovani, ma che diventi il cuore pulsante della vita culturale e dei giovani. Ecco, ai giovani li stiamo coinvolgendo perché siano loro i protagonisti. Diciamo sempre che i giovani sono il nostro futuro. Partiamo dal presente e insieme ai giovani costruiamo il loro futuro. Stiamo confrontandoci, hanno molte idee che riguardano altro tema sul quale noi vogliamo lavorare, è sostenere le attività educative degli oratori. Gli oratori svolgono una funzione fondamentale. Sono centri educativi, noi intendiamo sostenerli come io ho fatto Cannobbio nei dieci anni di amministrazione a Cannobbio. Un'altra delle sue battaglie in questi anni è stata quella della sanità, ospedale Castelli e non solo. Che cosa si prefigge per il suo mandato eventuale da sindaco? Sulla sanità bisogna essere molto chiari. Dopo 25 anni di nulla di fatto la gente non crede più a nessuno, ma ha ragione a non crederci. Fai e disfa, fai e disfa, fai e disfa. Oggi una scelta la regione l'ha assunta in consiglio regionale. È una scelta che noi abbiamo sostenuto con una raccolta e ringrazio i 4.000 cittadini che hanno firmato perché è dal 19 che diciamo non si tocca all'ospedale Castelli, deve essere potenziato, riqualificato e deve essere mantenuto il DEA che per noi è fondamentale. Ecco, la regione ha deliberato e ci sono 100 milioni. Sarà nostro dovere seguire giorno dopo giorno il percorso per ridurlo il più possibile e quindi non si vada a ridiscutere ciò che è stato deliberato dall'organo regionale. Lavoriamo in questa direzione e noi abbiamo fatto in modo che i verbanesi rimanessero a Verbagna. Qualcuno voleva chiudere Verbagna per mandare i verbanesi nell'ossola e mi riferisco al sindaco e al PD. Noi diciamo abbiamo anche qui raggiunto un obiettivo con il mantenimento del Castelli. Lavoriamo contemporaneamente nella fase di realizzazione sulla medicina territoriale che è altrettanto fondamentale. Quindi la Casa della Salute finanziata deve partire il prima possibile al San Rocco e anche su quello noi staremo al fianco della regione ma saremo critici e monitoreremo ciò che la regione farà nei prossimi mesi. Come vede la città tra cinque anni? Io vedo innanzitutto un percorso che insieme ai verbanesi dobbiamo fare. Un cambio di rotta, un cambio di metodo perché la città merita più trasporti efficienti, merita uno sviluppo turistico, deve essere attrattiva. Oggi la gente si pone la domanda perché dove venire a Verbagna? Ecco noi entro cinque anni dobbiamo dare le risposte del perché bisogna venire a Verbagna. Il potenziale inespresso che questa città ha, che è grande, noi dobbiamo fare in modo in una partnership con il pubblico privato e i cittadini. È un contratto con i cittadini che noi vogliamo firmare e vediamo la rinascita di questa città fra cinque anni con un progetto strategico e pianificato dove non si interviene con il fare per il gusto di fare sprecando denari e opportunità come è successo col PNR, ma con un disegno strategico che vede economia, turismo, infrastrutture e servizi in un tutt'uno, in sinergia per raggiungere l'obiettivo di far raggiungere a Verbagna quei posti che merita nelle classifiche internazionali. Mirella Cristina ha deciso di candidarsi sindaco di Verbagna. Come mai questa decisione, tra l'altro dopo una lunga esperienza politica anche a Roma? Una decisione assunta in modo molto convinto come candidato a sindaco di quella che è la mia città. Altrettanto convinta sono che proprio su Verbagna i partiti di coalizione di centrodestra debbano correre uniti per questa città e dare una proposta proprio di centrodestra ai nostri residenti. A proposito di centrodestra però c'è al momento una spaccatura nel centrodestra, una candidatura di Gian Domenico Albertella appoggiato dalla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia e della Lega mentre Forza Italia sostiene lei. Ecco c'è però un nodo ancora da sciogliere, si sono espresse le segreterie regionali su queste candidature? Le segreterie regionali non si sono ancora espresse, avranno a breve un incontro in cui definiranno anche questo capoluogo di provincia e io mi auguro che prendano veramente atto i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, di Lega e di Forza Italia di quello che sta succedendo sul nostro territorio perché come partiti politici non dobbiamo necessariamente avere sul territorio di Verbanio un nostro esponente politico, non possiamo affidarci a civici di sorta. Questa è la mia posizione ed è la mia posizione anche da segretaria provinciale del partito di Forza Italia. Quindi mi pare che ci siano ancora delle questioni in via di definizione ma lei va avanti in ogni caso? Io vado avanti perché è giusto non farsi cogliere impreparati anzitutto ma poi perché sentendo il tessuto cittadino emerge proprio questa spaccatura. Durante le mie consultazioni dopo che il coordinamento di Forza Italia a fine gennaio ha lanciato la mia candidatura, durante queste consultazioni ho sentito i partiti più vicini territoriali a Forza Italia e quindi quelli che sono col Partito Popolare Europeo in Europa, quindi Udc e noi moderati. E poi ho sentito anche una gran parte di iscritti di Verbania di Fratelli d'Italia. Il più del 75% di Fratelli d'Italia di Verbania sono per la mia candidatura. Quindi è ovvio che di tutto questo i nostri regionali ne dovranno tenere conto. Lei si è rivolta anche però alle liste civiche, alle componenti non iscritte a partiti. Sì, questo conformemente a quanto è stato il dettato del nostro nuovo segretario Tagliani Antonio il quale ci ha proprio invitato a sentire anche quella che è la base e quelli che sono ovviamente coloro che vogliono appoggiare la nostra coalizione di centrodestra e si sentono di centrodestra. Veniamo ai contenuti però, perché immagino che stia anche lavorando al suo programma elettorale. Quali saranno i punti principali? Allora, il programma elettorale dovrà essere assolutamente condiviso con quella che sarà la squadra costruenda. Però bisogna partire da dei dati fondamentali. I dati sono che Verbania ha 30.300 abitanti e su questo territorio esistono 14.500 nuclei familiari. Questo significa che abbiamo famiglie monoparentali, cioè formate da una persona sola ed in più i nostri residenti stanno invecchiando perché il tasso di natalità è diminuito. Siamo passati dal 6.2% al 4.88%. Quindi siamo di fronte ad una popolazione che sta invecchiando, monofamiliare quindi con difficoltà comunque ad affrontare le spese economiche della vita, con un tasso comunque di persone bisognose elevato e quindi ci sarà una parte fondamentale a mio avviso del programma che sarà concentrato appunto all'aiuto a queste persone ma non solo, anche ad iniziative per anziani che sono sempre più soli e hanno bisogno di essere assolutamente coinvolti con iniziative anche parlando di formazione, di cultura e di eventi proprio mirati alla terza età. C'è tutto un discorso che riguarda la viabilità a Verbagna, se ne dibatte molto e sarà sicuramente un tema della campagna. Per certo e sicuramente calcoliamo che Verbagna ha 217 chilometri di strade comunali e quindi va valutato veramente e in questo ovviamente massima attenzione a quella che è la manutenzione delle strade comunali, alla manutenzione del verde perché abbiamo anche un grande polmone di aree, di giardini, di parchi e poi l'attenzione anche sulla viabilità in particolare del collegamento tra la località di Sunna e la località di Pallanza. Va rivisto e stravolta in quel caso lì la viabilità perché il turista quando arriva a Verbagna deve essere portato sul lago e non al centro delle nostre città e ciò favorisce, favorirebbe anche questa inversione di viabilità anche comunque tutti i locali che noi abbiamo sul lago. A proposito di lago, perché ha scelto di registrare qui questa intervista? Ho scelto questo posto perché qua siamo di fronte alla statua Cavallotti dove c'è una piccola spiaggia che è una bomboniera a mio avviso di intra. È una piccola spiaggia che va valorizzata, va pulita e invece se voi passate durante l'estate c'è la vegetazione incolta, viene posto un bidone dietro le siepi che in teoria dovrebbero fungere da privacy ma in realtà sono di essenze indefinite e dietro in realtà sono fatte per nascondere il degrado che c'è dietro. Basterebbe veramente poco per rendere bella e fruibile la nostra città e questo è il primo passo di quello che deve essere l'operato di un'amministrazione. Il decoro urbano anche perché porta poi per tutti una qualità della vita migliore. Guardandoci intorno, proprio qui a Intra sono aperti numerosi cantieri. Cosa pensa di fare per le opere del PNRR iniziate e se ci saranno altre opere in vista nel suo programma? Indubbiamente i cantieri nei prossimi anni vanno terminati nel breve tempo possibile, nel più breve tempo possibile. Giusti o sbagliati che siano criticati o meno, si vedrà se è fattibile una rimodulazione di questi. Successo per noi delle opposizioni il fatto che l'amministrazione Marchionini abbia fatto un passo indietro sulla cantierizzazione anche di Piazza Fratelli Bandiera. Abbiamo sempre detto che era un progetto faraonico che avrebbe ulteriormente indebitato le nostre casse ma non solo, che non si sarebbe potuto togliere il pozzo fondamentale di fruizione della nostra città. E quindi la cantierizzazione l'abbiamo sopportata, la stiamo vivendo, ci sta in qualche modo danneggiando, però per fare delle opere bisogna in qualche modo sopportare. Però per i prossimi cinque anni io direi ristrutturiamo quello che abbiamo, concentriamoci magari sulla ristrutturazione dei nostri edifici, ma non altre opere e non cantierizziamo più. Dal punto di vista del turismo che cosa, che progetti ha? Ma il turismo va seguito e va in qualche modo condotto. Noi abbiamo un valore culturale inestimabile, però questo passa non solo da Verbagna, ma passa anche da un programma turistico mirato su tutto il territorio con una sinergia con tutti gli altri comuni del lago. E offrire, a mio avviso, un pacchetto turistico mirato e coordinato a chi fruisce dei nostri bellissimi posti vuol dire implementare gli arrivi in Verbagna stessa. Pulizia e decoro sono i temi più cari che interessano maggiormente ai cittadini, cosa ne pensa? Penso che siano l'ABC dell'amministrare. Una città pulita e decorosa è un valore aggiunto rispetto a tutto il resto. E qui occorre fare opera di sensibilizzazione della popolazione residente e poi soprattutto anche un'attenzione a quelle che sono le nostre periferie perché il decoro non è solo dei centri delle città, ma anche delle nostre località periferiche che vanno assolutamente attenzionate, ascoltate, seguite e forse sono anche per Verbagna un ulteriore valore aggiunto. Diceva in apertura di questa intervista che ci sono tanti anziani a Verbagna, ma per i giovani che cosa intende fare? Ma senz'altro i giovani sono il valore aggiunto della nostra società, del nostro territorio e sono loro il nostro futuro. Il giovane deve avere dei punti precisi di riferimento, deve sapere che potrà avere un lavoro, potrà essere formato, potrà tornare a Verbagna e dove potrà restare e fare una famiglia. Giusto che i giovani vadano fuori a formarsi, ma anche giusto poi dare loro ipotesi di lavoro e dare anche loro formazione lavorativa, professionale, in quelle arti e mestieri magari anche che stanno andando via via a perdersi. E poi il giovane ha bisogno anche di divertirsi, ha bisogno di trovare momenti di aggregazione, ma aggregazione, fatemelo dire, non politica, ma aggregazione comunque sul territorio, locali dove poter anche divertirsi perché tutti noi siamo stati giovani e tutti noi abbiamo avuto il piacere anche di passare delle serate in compagnia, magari in una discoteca, in un locale in cui si fa musica, senza che ciò ovviamente disturbi la popolazione più anziana. Di professione avvocato, un'esperienza da parlamentare e una lunga esperienza anche sui banchi del Consiglio Comunale di Verbagna. Che cosa vuole portare di tutto ciò in un suo eventuale mandato di sindaco? Senz'altro l'ascolto di tutti e il confronto, perché a mio avviso se si ascoltano anche idee contrastanti senza rigettare a priori le idee altrui perché vengono da sinistra o dal centro o piuttosto che dal centro-sinistra o dal centro-destra, bisogna ascoltare per migliorare perché noi lavoriamo tutti per il bene della nostra città. Questo è un dato, non c'è nessun salvatore della patria. C'è una proposta che noi abbiamo la possibilità di portare il prossimo 8 e 9 giugno a Verbagna e questa proposta deve essere il più coerente e concreta possibile e soddisfare le esigenze della nostra cittadinanza. È veramente tutto, per il momento io mi fermo qui, come sempre l'appuntamento tra sette giorni. Buon proseguimento e buona settimana.